Buon pomeriggio, io sono Raffaella e come tanti altri colleghi nel 2020 ho accettato per la prima volta un incarico come collaboratore scolastico e facevo parte del famoso personale Covid, ho lavorato in piena emergenza lasciando i miei bambini a casa, lasciando il mio vecchio lavoro di cui ero orgogliosissima e svolto per 17 anni a tempo indeterminato perché pensavo di poter dare un futuro migliore ai miei figli tanto è vero che nel 2020 scopro di aspettare il mio terzo bambino quindi ero felicissima di poter dire che avevo un lavoro stabile e avrei garantito il meglio a loro ma allo stesso modo mi sarei sentita meglio come persona perché il contatto con i bambini, con la scuola è fantastico al di là di ogni altro lavoro fisico che potevi mettere e andava oltre quello a cui esponevi diciamo la tua famiglia perché comunque sia li lasciavi a casa mentre loro svolgevano la didattica a distanza io mamma ero lì esposta in prima fila insieme agli altri ecco questa è la mia testimonianza chi va a supporto delle altre anche io ci credevo credevo di aver trovato un lavoro stabile che mi gratificasse e ci ho creduto fino in fondo altrimenti non avrei mai lasciato il mio lavoro